il popolo di facebook con youtube e twitter ma già siamo qui al mondo di procida pensate al mondo stamattina dovevamo andare a benevete ma non siamo andati siamo qui al mondo di procida vediamo facciamo un giro sulla tavola qui ok popolo guardate allora qui c'è il peppe il capotavola peppe che mi dici tutto bene il napoli gioca stasera ma vuoi salutare il popolo di facebook qui c'è mia figlia maira maira parla niente maira non dice niente un po' timide nella telecamera non c'è Danila vuoi dire qualcosa al popolo di facebook youtube e twitter messi nel skype buon appetito niente di che? e qui c'è la nuca in trillina saluta il popolo dagli un bacio al popolo cerchi qualche uomo qualche ragazzo domando e niente io cerco femmina femmina lei non mi mi chiedeva di abbazzire questi fatti perché dopo parlavo in privato non diciamo niente è pubblico bravo i maschi non sono brutti stavamo proprio le peggio lì sono contentissime di avere finalmente dopo un anno un anno? un anno? un anno è passato stavamo inaugurando la nostra nuova casa e dopo gliela facciamo un po' una casa di Peppe l'ha rinnovata e qui vada per lo soffitezza vada da 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 dopo andiamo andiamo soli ok? a dopo popolo il tempo che ci mangiamo gli gnocchi e ci facciamo un po' dimmi come lasciami ah non sola vada a casa di Peppe come si mangia con la forchetta d'argento dopo ce la prendiamo e ce la andiamo a prendere ok ciao papà